L'importante è che ne allo inquadra, poi tu vieni a creare... Tipo, allora, se si fa così... Fai così, infatti, ecco, perfetto. Ok. Tiralo un po' più su, magari. Più su, poi... È poco credibile. Ah, ok. È così... No, no, è poco credibile così. Infatti, cioè, devo proprio abbassare... Prova magari ad abbassare... Sì, prova magari ad appoggiarti. Devo abbassare ancora... Eh. Prova ad appoggiarti qui, cioè, a prenderla proprio alla stessa altezza, anche perché comunque quando poi hai il campo grande, nel momento in cui c'è il movimento... Eh, vai, vai così. Stiamo scherzando, signora, stiamo scherzando. Non c'è chi fa. Quindi... Prova, metterti lì. Allora, destra, sinistra... Allora, un po' più a sinistra, Sergio. Un po' più a sinistra. Cioè, posso tenerlo così, il coltello? Aspetta, aspetta, che adesso provo a zoomare per vedere... Eh, ma non si vede dopo, molto dopo si vede il coltello, eh. Non si vede subito. Ma se io, tipo, lo stessi quasi... Cioè, perché lui magari, anzi, ma forte, perché io glielo sto appuntando e poi è da finire. Sì, perché per quello che lui è... Cioè, tipo, io sto così... E poi... Veramente, è l'eufemismo. Sono tu! È il backstage, questo. Un tentativo. No, però se non si vede il coltello, lo... Cioè, devo dire... Però al soltello si vede solamente se lo metti in quella posizione lì. Se lo metti in quella posizione lì. Così. Torni però questa cosa, perché ci stiamo guardando. Eccolo, ci stiamo guardando, è un bicchiere di... Dai, dai, proviamo. No, perché non si vede in casa. Se ci va, a dire... Vai, proviamo, seguimi... Allora... Non scorreggio, magari la faccio un interno. Io sto filmando. Ok. Ok. Ok.